Stamattina io voglio prendere le lepie, i chili grossi, sono un po' piccolo a zia, perché quando li prepariamo li schiacciamo, devo un qualche uno pure che mangiatevi, questi si vede che non hanno trattamento, sono proprio naturali. Li schiacciamo e ci chiacciamo l'osso, e dopo vi faccio vedere come li preparo. Mi lavo le mani che io preparo li, vedi che è finito di schiacciare, inattacco, c'è l'osso, delle belle, ora l'altro passaggio qual è, vedi un po' di cose, vedi che hanno un po' di collante normali, i tagli, questo è l'astica, i tagli che forfici, o forse vedi che sono buoni, che si sa pure che mettono i patati, questi tagli, e mettono una marmitta, i lasti che è bello, che è questa canna, è l'astica, vedi qua, guarda, i mettono una marmitta, i tene in avanti, ed i mettono che entra, vedete qua, per chi metto qua entra, per chi stacca ne, ora io in gruppo un tagli, ora vi vi faccio vedere, io metto tutto qua entra, poi io metto tutto, ora ora vi faccio vedere, i mettono qua entra, e riscola, hai un suo, piano piano, se no mi schicciano, ecco qua, la corsetta, all'astica, quanto volete, vedete qua, all'astica, e io non ti posso mettere, guarda, voglio, ma che le mettono tutti qua entra, i mettono a marmitta, così, guarda qua, viste poi, vengono tutti qui, ne mettono un recipiente grande, i mettono qua entra, ci mettono qui, se ci faccio correre l'acqua, con il premettorio, diciamo noi, il premettorio, e poi mi ricordiamo, perché non c'è acqua corrente, adesso non tutti i giorni, e poi passo all'altro passaggio, per me, e poi vi spiego come faccio, per me, con il suo, vedete qua, che pesce, mi sono tra i mettoni, un litro d'acqua, e mi sono ad auro, ad auro, va, tutto a foglie a foglie, poi, mento, un fenocchio, quello che scorcio là, i cimbi, un fenocchio, vedete qua, profumate, sono, ecco, mento qua, una bella mangiata, poi, mento, arigano, sano, tagliato, pizzerina, mento qua entro, se vuoi, mento, o sale, il sale è una parepugna, e ci faccio la salamora, faccio vedere che non c'è un pochino, poi ci taglio due teste raggi, la gii papaggianti, la gii abbastano tagliato così a metà, uno lo catti, o vedi qua, e io, qua entro, se vogliono, questo non lo vuoi vedere, o vedi come è la gii papaggianti, è piccerino, è rosa, è tutto frutto, guarda guarda che bello, guarda qua, i spicci piccerini, se vedi che già sta appigliando da mori, guarda qua, piccerino, è colore di rosa, stella gii papaggianti, o che faccio, adesso faccio, adesso faccio usare fredda, e non ci aggiungiamo l'acqua fredda, quando vuole, io metto a me, già nero, però poi lo faccio vedere, a crudo, sapete solo che c'è vento, a crudo c'è vento solo i pipi, che i pipi ne posso dire, se no sbomba che amaro, uomini, quando arriva a me, già nero, poi vi faccio vedere che ci vedi cosa, allora scacciai le levi, in Natale, i messi a modo con l'acqua corrente, la cosetta, come vi mostrò io, ma ho già due giorni che l'acqua, mescolo, bello, bello, e ci vedi questo preparato a me, già, dopo che gugli, o da su se è fredda, e dopo io ci metto acqua quando vuole, sale, i prof, su buoni sale, i cup, e durano anni, che poi quando mi metto a me, già ne vi mostro, e siamo a posto.